è il nome italiano della fondazione del partito della sinistra europea ed è nata proprio nei giorni di Genova questo rapporto con le altre fondazioni politiche che poi hanno facilitato la costruzione del partito della sinistra europea credo che possiamo dirlo noi a Genova siamo nati e da Genova non ci siamo mai allontanati quella è la nostra storia, quella è la nostra radice e quello che è successo in Europa, in altri paesi, in Grecia, in Spagna dimostra che quel movimento che abbiamo saputo costruire qui le relazioni sono state anche relazioni importanti in Grecia e Sirica è uno degli esempi di quello del portato che è stato il movimento di Genova così come Podemos, ricordo che di Grecia si partecipò alle giornate di Genova ecco credo che quello che abbiamo il compito di fare è quello di costruire, continuare a costruire questo rapporto tra movimenti e politica senza un disegno politico di trasformazione ogni battaglia diventa meno potente, meno capace di trasformare la realtà per questo penso che noi anche come italiani dobbiamo interrogarci il perché noi non siamo stati capaci come sono stati capaci a fare ma questo è il discorso che guarda dietro e adesso vorremmo il discorso che guarda avanti noi trasformiamo in Italia è stata capace, ha messo in moto contro il MES, contro le politiche europee contro i trattati europei ancora oggi costruiamo queste relazioni e questo è possibile anche grazie al supporto europeo noi siamo qui a rappresentare non soltanto una battaglia italiana non soltanto una rete italiana ma una rete che deve per forza isolarsi sul cammino e sul livello sociale per questo noi abbiamo il dovere di che domani sarà il momento di interroduzione anche con i nostri compagni non soltanto europei ma internazionali perché penso che il nostro compito ci deve essere capaci di entrare in relazione con le battaglie dei movimenti globali Transforma c'è stata, c'è e ci sarà grazie 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 grazie